Talita cum, fanciulla, io ti dico alzati, questa è la frase che Gesù dice alla giovane figlia di Gairo all'interno del Vangelo di Marco, tutti pensavano che la ragazza fosse morta ma le parole di Gesù, lei si alzò e tornò a vivere. Talita cum, una rete gestita da suore cattoliche, coordina attività di prevenzione della tratta in quasi 90 paesi. Il nostro approccio si fonda sull'attenzione e la cura per la singola persona e per le comunità. Offriamo accompagnamento, speranza, cura e sostegno a coloro che hanno dovuto sperimentare l'ignobiltà, l'ingiustizia e l'orrore della tratta di persone, fornendo ai sopravvissuti gli strumenti necessari per riprendere in mano le proprie vite. Ispirati e aggiornati da informazioni raccolte grazie al nostro impegno capillare a tutti i livelli, i membri di Talita cum si impegnano per un cambiamento sistemico a livello locale e nazionale. Il nostro lavoro mira a garantire ai sopravvissuti l'accesso a un'assistenza rispettosa, tangibile e a lungo termine, ma lavoriamo anche affinché ai trafficanti vengano date le giuste pene e con l'obiettivo che i sistemi ingiusti che permettono il proliferare della tratta vengano finalmente smantellati. Sebbene ogni rete operi all'interno del proprio paese o della propria regione, la nostra presenza globale rende più agevole l'attuazione di iniziative educative e di formazione, ma anche la condivisione a livello globale di informazioni, risorse e buone pratiche. Talita cum è stata fondata nel 2009 all'interno dell'Unione Internazionale Superiore Generali e attualmente ha messo radici in ogni parte del mondo. Le nostre mani tese si protendono oltre le frontiere, offrendo alle vittime e ai sopravvissuti in ogni parte del mondo amore, cura, sicurezza, solidarietà, opportunità di lavoro e la presenza salvifica di Gesù. Nel raccogliere la sfida di sviluppare soluzioni sistemiche, invitiamo alla collaborazione con i sopravvissuti alla tratta, con il settore privato, i governi, le ONG e la società civile. Sostenerci gli uni con gli altri amplificherà l'impatto delle nostre azioni per trasformare un'economia della tratta in un'economia di cura. Talita cum rappresenta il potere trasformativo della compassione e della misericordia, del vivere e testimoniare i valori cristiani nel dialogo con altre fedi e confessioni. Alzati, siamo qui con te e per te Talita cum.